salve a tutti salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video del gruppo 1881 ecco oggi veniamo incontro ad alcune istanze a qualche follower più di uno peraltro che ci hanno chiesto di parlare di una referenza che normalmente viene associata al al mondo dei diver lady bar boy diver con misure contenute e concepiti effettivamente per questi utilizzatori cioè le donne o i ragazzi stiamo parlando di questi due diver vintage eccoli ovvero nello specifico di queste referenze la calibro il 22 05 poi parleremo del calibro vero 760 che come avete visto nella nel testo nel libro libro di ryugo sadau si erano previste in versione orange dial e nella classica versione black dial quadrante nero ecco allora queste due referenze che montavano il calibro 22 05 un calibro peraltro di ottima fattura e ne parleremo furono realizzate dalla casa dalla scusate della fabbrica da lini stiamo parlando del 1976 quindi vengono introdotti questi due diver questi diverini vengono introdotti nel 76 fino al 79 così sembra almeno leggendo il libro di sadau queste due referenze mantengono appunto la di codice cassa 0 760 dalla 76 poi cambiano ed è vero cambiano referenza però io non so se sia proprio scusate dal 79 in poi non so se sia proprio il 79 o già l'ottanta cambiano il codice cassa in 40 90 allora questo cambiamento sembra che non abbia delle specifiche diciamo variazioni cioè non è che incida sui due diver in realtà io leggendo nel libro di sadao sadao intervista il progettista della cassa allora la cassa fu progettata da gen mitamura si gen mitamura non so scritto che nomi giapponesi non sono mai semplicissimi ecco gen mitamura viene intervistato nel libro lo faccio vedere questo libro molto interessante ecco la storia di diver secco ecco gen mitamura viene intervistato e nell'intervista dice che appunto queste due referenze cambiarono poi codice cassa cioè cambiò la referenza del codice cassa in questi due modelli perché a suo dire questo cambiamento dipese dal fatto che vengono venne eliminato dal quadrante venne eliminata la dicitura professional però io questo lo dice appunto il progettista ingegnere però effettivamente io andando su google facendo un po di ricerca io ho notato che le referenze 40 90 hanno la dicitura professional adesso può darsi che ce ne sia qualcuno senza io non non l'ho trovata dico la verità quindi forse quella indicazione del dell'ingegnere non è corretta in ogni caso siamo di fronte a una un diver molto amato dai collezionisti perché seppure di dimensioni estremamente contenute volete posso anche dare le misure in diretta allora con se teniamo conto della della corona e di questa cassa che un po asimmetrica siamo a 37 va bene ma con la corona comunque è un diver per esempio la la ghiera ecco la ghiera misura 31 quasi 32 questo diver concepito come dicevo per le signore per le donne per le ragazze e per i ragazzi se vogliamo per polsi minuti piccoli è però un piccolo capolavoro se vogliamo intanto il calibro 2205 è un calibro ottimo è un 28 mila 800 alternanze quindi stiamo parlando di un calibro con una buonissima frequenza questi dai verano dei 150 metri siamo negli anni 70 76 metà anni 70 quindi ancora secco e realizzava orologi con questa tenuta stagna diciamo i basici gli entry level c'erano già come voi sapete anche dei 300 e dei 600 ma a diciamo a livello entry level forniva diver con una tenuta di 150 metri ora questi diver però erano costruiti benissimo intanto appunto come vi dicevo avevano anche la ricarica manuale la possibilità di ricarica manuale che se vogliamo nei secco è abbastanza è abbastanza è una complicazione poco utilizzata quindi non dico rara è abbastanza rara però è poco utilizzata effettivamente soprattutto poi in quel periodo la cassa come vedete guardate il design è molto è molto è molto interessante purtroppo non abbiamo guardate questo è il retro non abbiamo su questi orologi il nome del designer infatti il libro di sadao di ryugo sadao lo indica il designer come sconosciuto perché lui ha tutta una serie di schede per ogni referenza e in ogni in ogni schede viene indicato anche il designer ora nel caso dei dei nostri 2205 non c'è l'indicazione design anzi dice proprio sconosciuto si conosce invece il nome del progettista della cassa che è appunto questo gen mitamura è possibile quindi che questo design sia stato concepito sia stato concepito da un team un team di designer della daini va bene ora la cosa che più mi diverte in questa referenza è il fatto che venga spesso anzi spessissimo se non quasi sempre almeno nelle cosiddette aste sui sulle piattaforme ebay e quant'altro ma anche nei forum viene definito con un nick che a mio giudizio è completamente fuori fuorviante vengono chiamati baby apocalypse now o baby villard ecco guardateli adesso guardiamo un villard chiediamoci 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 perché vengono chiamate baby villard io non lo so non riesco a capirlo cioè è un nomignolo così molto campato in aria vorrei dire perché tra queste referenze non c'è non c'è nessuna affinità non c'è nessuna affinità ad esempio nei quadranti perché vedete il villard ha un quadrante con indici rettangolari questi invece hanno un quadrante con indici a bicchierino alternati a indici rettangolari vedete nel nelle ore 12 3 6 e 9 sono rettangolari gli altri sono invece a bicchierino ora perché lo hanno chiamato baby villard io credo che l'unico elemento che possa aver ridotto una mente molto fervida molto molto una grande immaginazione penso che l'unico elemento sia il fatto che siano un po asimmetrici vedete c'è questa corona molto che sporge molto ad ore 3 in realtà il villard invece è una corona ad ore 4 e poi ha in realtà una asimmetria che è molto diversa molto molto diversa siamo poi qui siamo di fronte ad un orologio che è il capostipite dei tartol del primo tartolo questo tonno a cuscino questi invece non hanno niente di questa forma ecco cioè qui non c'è il tonno ecco peraltro del villard possiamo anche dire che c'era un designer intanto il villard è un prodotto che proviene dalla fabbrica della fabbrica suva ok poi per quanto riguarda invece stavo cercando un eccolo qua esatto ecco per quanto riguarda il nome del designer del del villard sappiamo perfettamente che è tarotanaka mentre invece il stile cavo questo l'ingegnere cioè quello che fece il progetto della cassa l'ingegnerizzazione della cassa e quindi non è neanche il nostro gen mitamura cioè allora abbiamo quindi due fabbriche diverse e abbiamo anche designer e progettisti completamente diversi quindi io ritengo che non ci sia nessuna affinità tra le due referenza ok proprio perché non provengono neppure dalle stesse fabbriche e neppure dagli stessi designer siamo di fronte a due cose che non sono legate in alcun modo peraltro questo è un design del 70 questo già un design del 76 cioè abbastanza successivo se vogliamo questo design coevo si può usare qui il termine ai ai tanto ai simmetrici a quello che noi definiamo il tartal per eccellenza il 6306 con 6309 ecco questi sono sono contemporanei a quella cassa lì come vedete non c'entrano niente neanche con i tartal i nick che a volte sono importanti perché aiutano ad individuare subito una referenza e danno anche la possibilità a chi ha meno memoria di fare delle ricerche e quindi anche delle degli acquisti inserendo dei nick ormai questo orologio ha acquisito quel nickname e c'è poco da fare nel senso che non riusciremo a toglierlo a me interessa semplicemente dire che quelli che non è assolutamente pertinente non ha nessuna non è coerente con la referenza ecco non c'è nessuna affinità tra il villard e questi diver professional se vogliamo questi dai verranno anche un calibro molto superiore al 6105 proprio perché avevano una costruzione che prevedeva anche la ricarica manuale e soprattutto con una frequenza molto più molto più elevata un 28.800 contro il 6105 che penso fosse un 21.000 direi adesso vado a memoria c'è da dire un'altra cosa su questi orologi è probabile è probabile che gen mitamura faccia confusione quando dice che a un certo punto cambiò l'indicazione sul quadrante e venne spunta la dicitura professional per me la dicitura professionale è stata mantenuta anche nella successiva referenza la 40 90 ma forse mitamura faceva riferimento a questi orologi qui non ce n'è un altro questo è anche completo del suo della sua del suo gommato questi che sono sempre orologi della fine degli anni 70 oserei dire 77 78 comunque questo ad esempio credo che sia dell'80 come referenza come seriale scusate se questo è un seriale dell'80 esatto inizia con lo zero e questi sono i 42 0 i 45 0 2 posso vedere anche meglio c'era anche il pepsi c'era anche il pepsi c'era l'orange e nero ecco questi sono della fine degli anni 70 ed erano sempre dei mid size e non erano dichiarati professional è probabile che quindi l'ingegnere mitamura si sia confuso con queste referenze che effettivamente non erano dichiarate professional peraltro il calibro era un calibro appunto meno qualità inferiore rispetto al 22 0 5 quindi quasi contemporaneamente secco introduce queste referenze in queste due colorazioni e dichiarate professional professionali e questa che è sempre un 150 ma non è dichiarato professionale e se non vado errato questo non ha neppure vediamo forse alla ricarica sì questo anche questo la ricarica manuale però non era un 28.800 alternanti anche questo la ricarica manuale ok qui lo vedete col suo con la sua gomma ecco altro non c'è da dire su queste due referenze sicuramente oggi assistiamo per quanto riguarda appunto i nostri 22.05 assistiamo ad un interesse che io definirei abbastanza anomalo su queste referenze perché ripeto normalmente il collezionismo che è un collezionismo quello degli orologi monopolizzato da uomini in sostanza non si dirige su queste referenze per concepite al tempo per le signore per le donne o per i ragazzi invece su queste due referenze quantomeno i collezionisti secco sono molto sono molto diciamo interessati ecco cioè si nota un interesse notevole su queste due referenze probabilmente perché sono delle professional quindi rientrano nella categoria professional hanno ottimi calibri e hanno un design sicuramente particolare che poi verrà ripreso anche questa colonna 3 da alcune referenze quarts degli anni 80 ripeto ritengo che con il villard non abbiano nessuna nessunissima affinità oggi guardando ebay mi sono accorto che sono arrivate a delle cifre assurde ripeto assurde perché ecco li ho visti a 900 euro come comprarlo subito e diciamo non sappiamo che ebay è una piattaforma dove le proposte di vendita non sono certo indicative e non hanno come posso dire non possono orientare il pubblico su quelli che sono i prezzi effettivi di una referenza anzi in linea di massima questi prezzi sono molto gonfiati su ebay estremamente a volte quasi più del doppio di quello che può essere il prezzo di mercato oggi il prezzo di mercato non lo fa ebay non lo fa non lo fanno queste piattaforme questo lo dico a chi è interessato a fare acquisti di questi modelli questi modelli si possono trovare a molto meno per esempio nei forum nel chat mercatino e quant'altro dove i prezzi sono assolutamente molto più calmierati infatti si assiste da qualche anno che si assiste ad un fiorire di chat dove la gente gestisce in sostanza la gente gli amministratori gestiscono dei mercatini in questi mercatini normalmente ecco i prezzi sono molto più realistici poi c'è sempre quello che spara e va bene perché si allinea ebay però in linea di massima c'è molta più ragionevolezza in questi mercatini e anche nei forum peraltro qui c'è la possibilità di contrattare comunque di negoziare con una maggiore elasticità che invece su ebay è un po' illimitata infine integriamo tutto il ragionamento fin qui fatto e nello specifico mi riferisco anche alla critica che noi muoviamo alla definizione al nick baby villard ora questo nick che come ho già spiegato non ha molto senso se si comparano due orologi e se quindi li si guarda dal punto di vista del design della struttura e quant'altro che ripeto li vedono molto lontani a parte questa vaga asimmetria ma che non basta per diciamo avvicinarli e definirli quindi l'uno il baby dell'altro ecco però recenti scoperte e questo è interessante perché una scoperta fatta da un nostro amministratore del forum e che voi potrete anche reperire sul forum stesso del gruppo 1881 recenti scoperte hanno messo alla luce hanno quindi portato alla luce il fatto che martin martin sheen quando ha girato il suo apocalips now quindi quando ha interpretato il capitano villard voi sapete che l'apocalips now è stata girata nelle filippine siamo circa nel 76 quando martin sheen ha girato sul set c'era anche il figlio piccolino un ragazzino di 10 11 anni ora che si chiamava charlie peraltro che poi è anche il nome con cui gli americani definivano i vietconghi quindi charlie in una foto in più di una foto indossa questo orologio poi indossa un 22 05 probabilmente uno 0 760 visto che siamo nel 76 e mentre l'altra referenza viene un po' dopo probabilmente nel 79 quindi a questo punto si potrebbe riabilitare il termine baby villard non tanto per quella che è un'affinità estetica che non c'è ma semplicemente perché effettivamente il figlio baby di martin sheen indossava questo orologio peraltro sul set chissà magari ho acquistato dal padre magari regalato donato dal set no quindi dalla produzione al figlio di martin sheen è interessante probabilmente ecco non abbiamo la certezza esatta ma dovrebbero essere dovrebbe essere il 76 perché il quelle riprese furono fatte nel 76 questo orologio come vi dicevo è entrato in produzione nel 76 quindi probabilmente è proprio il primo anno di commercializzazione del 22 05 questo professional ecco questo è un aneddoto molto interessante no perché alla fine secco è talmente le vicende le storie in cui compaiono i secco sono talmente tante che da un errore perché io lo definisco un errore il fatto di averlo definito è chiamato baby villard noi oggi possiamo riabilitare il nick e dire beh comunque ci può stare se il riferimento al nick non è di tipo estetico o di affinità di design bensì se è riferito a questo ben preciso episodio adesso vi faremo vedere anche delle foto questo preciso episodio storico che riguarda il film Apocalypse Now e a questo punto ha senso definirlo baby villard forse non ha senso definirlo baby 6105 8110 nel senso che non va riferita alla referenza diciamo del cosiddetto villard ma va riferito questo nick al personaggio che ha indossato il 6105 cioè al villard al capitano villard ovvero a Martin Sheen padre di Charlie Sheen che appunto nelle foto indossa un 22,05 e con questo credo di aver dato ampio ampia narrazione ed esposizione in merito a questa referenza che quindi come avete potuto capire merita moltissimo anche dal punto di vista diciamo degli aneddoti quindi dal punto di vista storico e degli aneddoti legati sempre al film di Coppola Apocalypse Now con questo quindi vi saluto vi preannuncio che il prossimo video con tutta probabilità sempre che io riesca a trovare alcune informazioni che in questo momento non sono ben chiare parleremo di una vicenda molto se vogliamo molto cara a noi italiani ovvero quale parete del Monte Bianco appare sulla limited edition dedicata a Uemura su quel recente orologio con quadrante bianco e con sullo sfondo la silhouette del Monte Bianco ecco che è una limited se non vado errato una SLA ecco quale parete appare su quel quadrante una parete versante italiano o una parete versante francese ecco questo enigma verrà forse svelato nel prossimo video e con questo vi saluto e vi rimando ai prossimi video e vi invito a disiscrivervi dai canali che fanno solo commercio e pubblicità e imprenditoria grazie 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 grazie